Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, questi reati contestati alle tre persone denunciate a piede libero a seguito di controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Battipaglia e dalla Polizia Stradale. Gli agenti hanno bloccato tre furgoni carichi di materiale proveniente da lavori edili, uno dei quali sequestrato perché privo di copertura assicurativa. I rifiuti successivamente sono stati trasportati presso il centro di raccolta di Alba al fine di avviarne lo smaltimento. Grazie